Bitcoin perde il colpo a partire dall'intervento di Powell durante l'FOMC, ma nonostante ciò abbiamo un mensile che rimane tutto sommato positivo. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattina a tutti. Perdonatemi se non mi mostro in viso ma non mi trovo in ufficio, però sono qui sempre ad aggiornarvi. E in questo video ragazzi voglio appunto mostrarvi delle cose molto molto interessanti. Però prima di cominciare vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando un like e iscrivetevi al canale stesso. Hai fatto? Allora ovviamente partiamo con i dati di carattere fondamentale, soprattutto andiamo molto rapidamente a vedere che cosa è successo ieri durante l'FOMC. Sono stati dichiarati i tassi di interesse dalla banca centrale americana che come da aspettative, come il 98% degli analisti si aspettavano e tutti ci aspettavamo, sono stati del 5.5%. Infatti diciamo che non è questo il dato che ha creato volatilità su tutti i mercati. In realtà se noi andiamo a prendere in considerazione anche le parole di Jerome Powell, non è che sono state tanto diverse rispetto a quelle che ci aspettavamo. Infatti ha detto che rimane comunque sia sul tavolo un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre. Questo però se i dati complessivi continuano in questa direzione. Cioè vuol dire se vedremo nei prossimi dati, nei prossimi settimane, dei dati incoraggianti sull'inflazione, dei dati incoraggianti appunto sul mercato del lavoro e più generale appunto sull'economia. Infatti se passiamo sulla situazione dal CME Group, infatti andiamo a vedere le probabilità durante la prossima sessione, che ricordo ci sarà il 18 settembre del 2024, per l'88,5% delle persone, degli analisti, si aspettano un taglio di 25 punti base. Infatti attualmente abbiamo un dato corrente a 5,25-5,50 e l'88,5 si aspetta un taglio di 25 punti base a 500-5,25. Ok? Soltanto un 11,5% si aspetta un taglio di 0,5 punti base. Ora secondo me la Federal Reserve come prima manovra, qualora dovesse decidere definitivamente di andare a tagliare i tassi durante la prossima sessione, che ricordo ci sarà tra 48 giorni ormai, fanno una bella pausa estiva per andare in Florida o comunque sia non so dove al mare. Comunque sia le probabilità che il primo taglio possa essere di manovra, di conseguenza con 25 punti base, un po' come hanno fatto tutte le altre banche centrali, compreso la banca centrale europea, è molto molto alto. La vedo molto dura, un taglio di 50 punti base, ok? Però staremo a vedere. Bitcoin ha iniziato a fare le bizze a partire proprio da dopo l'intervento di Powell, anzi in realtà proprio in concomitanza dell'intervento di Powell ha iniziato un po' a crollare, un po' a perdere terreno, come andremo a vedere anche a brevissimo. Ci sono delle novità per quanto riguarda la situazione MTGOX, infatti nelle ultime ore nuovamente MTGOX ha mosso circa 3,1 miliardi di dollari su un altro wallet, a un wallet che è attribuibile a BitGo. BitGo, per chi non lo sapesse, è il quinto final custodial che praticamente appunto si deve occupare e lavora insieme appunto a l'ente che si occupa della ricompensa di questi Bitcoin definitivi ai legittimi proprietari, ma adesso vediamo come MTGOX detiene circa 46.160 Bitcoin, praticamente un terzo di quelli che ne aveva nativamente. Prima o poi questa situazione finirà. Sono usciti i report della prima metà del 2024 di Tether e Tether riporta un profitto aziendale di circa 5,2 miliardi di dollari, una cifra enorme. Tra l'altro sono uscite anche appunto le riserve di Tether che secondo gli ultimi documenti ci sono meno di 110 milioni di dollari in banca su 118 miliardi di riserve totali, ok? Il mica avrebbe richiesto circa il 60% delle riserve appunto dentro le banche, però ragazzi una cifra così enorme metterebbe a rischio la longevità appunto di questa stablecoin e soprattutto dell'ente che la emette, perché abbiamo già avuto la controprova per quanto riguarda la situazione Silvergate Bank con lo stesso USDC. Vi ricordate quando sono crollate queste piccole banche e soprattutto Circle deteneva circa un 3%, se non sbaglio, forse leggermente di più, all'interno di queste banche e se non fosse intervenuto lo Stato, il governo americano, il governo federale americano, purtroppo USDC ormai avrebbe perso il Depeg, non l'avrebbe più preso, ok? E non l'avrebbe più ricoperato. E soprattutto detenere circa il 60% delle riserve da parte di Tether in delle banche vorrebbe dire che questi 5,2 miliardi di dollari praticamente dimezzerebbero, perché molto probabilmente questi 5,2 miliardi di dollari di profitti andrebbero per lo più su questo 60% direttamente alle banche e non più verso Tether. Diciamo che Mimica favorisce le banche, però in una situazione del genere in cui, soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo una situazione bancaria che è molto molto disastrosa, infatti abbiamo visto come diverse banche rischiano di implodere, non sarebbe proprio la scelta giusta da parte di Tether. Comunque sì ragazzi, prima di continuare, prima di passare con la visuala grafico che voglio mostrarvi anche il mensile di Bitcoin, volevo ricordarvi che c'è una promo sul deposito per tutte quelle persone che vogliono andare a fare trading tramite BitMart. Infatti depositando 50 USDT riceverete circa 50 USDT per andare a utilizzarli sul trading, sul mercato dei futures, ok? Vi lascio comunque sì a tutti i termini e condizioni qui sotto nei commenti, ma adesso noi procediamo con l'andare a vedere come si sta comportando il mercato. Come vi ho detto abbiamo un mercato in decrescita, infatti abbiamo Ethereum che perde un 2,8%, Fetto un 4%, Mantle un 6,8%, diciamo che in top 100, ma in realtà se andiamo a mettere anche in top 200, abbiamo una situazione abbastanza disastrosa, ok? Ci sono alcune altcoin che perdono il 10, alcune il 5, eccetera, eccetera. Ma passiamo con i vederi come si stanno comportando i big, cioè vuol dire Bitcoin ed Ethereum. Ethereum già l'abbiamo visto, infatti nelle ultime 24 ore perde un 3,14%, assestando il proprio prezzo a 3.184 dollari. Bitcoin perde addirittura anche i 64.000 dollari, almeno momentaneamente, perdendo nelle ultime 24 ore un 3,09% e assestando un prezzo a 63.900 dollari circa, ok? Voglio mostrarvi il fatto che, diciamo, la situazione sui Bitcoin ETF ieri non è stata positiva, infatti abbiamo avuto un deflusso di circa 267 Bitcoin. Ovviamente non è stata questa la causa del crollo, perché stiamo parlando soltanto di 17,7 milioni di dollari che hanno impattato il mercato. Per quanto riguarda la situazione Ethereum ETF, soltanto due volte da quando sono stati lanciati, ora qui abbiamo comunque sia un dato di 10 giorni, forse meno, 8 giorni, dove abbiamo anche avuto ieri un deflusso, ovviamente la maggior parte sono defluiti da Grayscale, di circa 23.550 Ethereum da questi strumenti. Voglio partire con il grafico mensile di Bitcoin, perché effettivamente ieri, anzi in realtà a partire da questa notte, si è chiusa la candela mensile di Bitcoin, ok? Voglio andare a levarvi un attimo questi scarabocchi in modo, eccolo qua, vedete come attualmente si sta formando questo triangolo di compressione, effettivamente se prendiamo in considerazione soltanto le chiusure, perché molti e soprattutto io traccio le trendline, o comunque sia le zone importanti, tutto sommato senza, appunto, andare a prendere le ombre, ok? Infatti è evidente come si sta calando la volatilità su Bitcoin, sempre sul mensile, e soprattutto questo pare essere in tutto e per tutto, almeno per adesso, un pattern di continuazione bullish, ok? O meglio, questo è quello che ci dice l'analisi tecnica a livello statistico. Quando noi abbiamo un impulso verso il rialzo, abbiamo una stazionalità che poi va calando con anche la volatilità, e formando questo qui, che sembra un triangolo di compressione simmetrico, poi le probabilità di andare a rompere verso il rialzo, o poi ovviamente dobbiamo andare a prendere e andare a vedere qualora c'è una chiusura verso il rialzo di questo pattern, allora le probabilità di continuazione di trend, che in questo caso è rialzista, sono maggiori, ok? Infatti vediamo come Bitcoin è riuscito a chiudere all'interno di questo range, range che poi sul mensile va tra i 60.300 dollari fino ai 71.300 dollari. Andando a calare di time frame, prima di andare a prendere il daily, che è molto importante, voglio mostrarvi il weekly, ok? Anche qui siamo sempre nella fase di range, purtroppo siamo stati respinti, andiamo a riprendere i nostri scarabocchi, siamo stati purtroppo respinti, e attualmente, qualora chiudesse in questo modo, il weekly non sarebbe uno dei weekly più positivi. Infatti vuol dire che la candela di settimana scorsa ci conferma come questo fosse un pattern di inversione, ok? Infatti abbiamo una grossa shadow verso ribassa, abbiamo questa doji con un corpo praticamente inesistente, il che ci dimostra come la debolezza e soprattutto i bears sono in padronanza durante questo ultimo lasso di tempo. Lo vediamo appunto anche da la candela settimanale che si è aperta da inizio settimana, ok? Se vogliamo vedere una continuazione bullish, nel breve termine dobbiamo andare a recuperare immediatamente tutte queste zone, almeno andare a chiudere verso i 68.800 dollari, anche se voglio mostrarvi il daily, che il daily già ci dimostra, ci dà delle informazioni maggiori più nel dettaglio. Vi dicevo, ragazzi, attenzione, questo scarabocchio infatti l'abbiamo fatto ieri, attenzione perché? Perché ci trovavamo a questo livello. Vi avevo mostrato come questo poteva essere un double top, figura di inversione nel breve termine appunto sul daily, infatti dopo un impulso verso il rialzo. Primo storno, secondo storno, che tra l'altro pare essere anche più potente del secondo storno, pare che abbiamo rotto addirittura questa trendline. Infatti se noi andiamo a prendere in considerazione questo livello, abbiamo il livello dei 65.000 dollari come una neckline, la neckline appunto di questo pattern, ovvero double top. Purtroppo l'abbiamo rotta verso il ribasso, esattamente come dicevamo di non voler vedere nell'analisi di ieri, e purtroppo qualora dovessimo avere anche uno storno verso il rialzo, ma che non riesce a superare i 67.000 dollari, potrebbe essere soltanto un ritracciamento per andare appunto a prendere questa zona per poi continuare verso il ribasso, ok? Dove potrebbe arrivare? Potrebbe benissimo arrivare, se prendiamo il weekly, voglio mostrarvi una cosa. Purtroppo potrebbe benissimo arrivare verso i 60.000 dollari, però ora ovviamente prima di arrivare laggiù su un livello weekly, ragazzi, ce ne passa di tempo, ok? Infatti qualora dovesse reggere esattamente i 63.900 dollari, che è il punto in cui ci troviamo più o meno adesso, l'importante è che non andiamo al di sotto con una chiusura al di questo livello, ok? Che abbiamo questo minimo. Nonostante ciò, è una situazione abbastanza ambigua, perché comunque allo stesso modo abbiamo il DXY, che è l'indice di forza del dollaro americano, che non soltanto ha rotto verso il ribasso, ma pare stia ritestando anche questa trendline, dimostrando debolezza, ok? In molti analisti si aspettavano il fatto che l'indice di forza del dollaro americano perdesse valore, allora Bitcoin, di conseguenza, avendo tutto sommato una correlazione inversa, invece andasse verso l'alto. Così non è stato. Andando a prendere in considerazione anche il Nasdaq, sta facendo tutt'altro tipo di pattern, ok? Infatti ha scontato le parole e le rassicurazioni appunto di Jerome Powell, se appunto possiamo chiamarle così, dato che ha dichiarato se continueranno i dati complessivi in questa direzione, sarà confermato il taglio a settembre dei tassi, però Bitcoin ha deciso di fare un po' per i cavolacci sua, ok? Tornando sempre su Bitcoin, abbiamo visto come abbiamo preso tutte le zone di liquidità per poi ripartire verso il ribasso, ok? Ora voi vedete tutta questa zona di liquidità tra i 70.169 fino ai 70.600, ma questa è tutta liquidità che si è sformata dopo, ok? Infatti se noi andiamo a restringere il campo, in modo da tornare indietro nel tempo, vediamo come Bitcoin effettivamente, quando è arrivato a toccare i 70.000 dollari durante gli scorsi giorni, durante le scorse ore, il 29 luglio, ha preso tutta questa liquidità e ha deciso di rimbalzare verso il ribasso, ok? Questo lo fa sempre, lo fa quando va verso il ribasso, lo fa quando va verso il rialzo, quindi vedremo però i livelli importanti, se riesce a mantenerli. Infatti, come vi ho detto, l'importante per quanto riguarda Bitcoin è non andare a chiudere, almeno per adesso, sotto i 63.900 dollari, ok? Altrimenti potrebbe essere un segno di continuazione verso il ribasso e purtroppo il target più importante, oltre ad i 62.800 dollari a livello di chiusure daily sono i 60.200 dollari. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, come si comporterà Bitcoin e il resto delle crypto loot nei prossimi giorni. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Per gli iscritti invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!